5.000 fai registrazione schermo fabio 5.800 ragazzi si è rotto tiktok si è rotto tiktok ragazzi seguitemi si è rotto 6.200 spettatori 6.200 spettatori non riesco a non ridere 6.600 Hi boys I'm Marzo I do ASMR show this is my special trigger the thunderstorm thunderstorm is my invention my invention trigger follow me follow me follow me in this moment I'm in live also on youtube link in bio link in bio 7.300 spettatori 7.300 spettatori follow me follow me ragazzi si è rotto tiktok 7.500 spettatori ciao orsetto ciao orsetto ciao for 10 roses you're wonderful you're wonderful Tu mi devi dei soldi, orsetto, tu mi devi dei soldi. Federica, grazie. Che poi sono pure spettinato col campanello. Grazie mille, grazie a tutti, ragazzi. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti. Non posso non dire parolacce da 27.000 persone. Grazie, grazie, ragazzi. Grazie a tutti. Ce la farai, ce la farai. Tic, tic, relax. Relax, 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 relax the crazy. Fabio, sì, Fabio, ma stai facendo registrazione schermo, Fabio? Lo stai facendo? Non lo trovo il tuo messaggio qua, quanti cazzo siete? Boh, non lo so, ci sto chiamando più niente. Thank you, thank you, thank you, thank you. So relaxing. So relaxing. So relaxing. Questo era il temporale. Questo era un thunderstorm. Cioè, è un thunderstorm. Questo era il mio special trigger. Il mio special trigger. Adesso. Ora. Faccio un spoon, un piccolo spoon. Questo è un sonno meraviglioso. Un sonno meraviglioso. Tic, 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 tic. Oh, mio Dio. È così relaxante. È così relaxante. È così relaxante. Tic, 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 tic. Matteo, dimmi. Dimmi, Matteo. Kiss for you. Kiss for you, relaxing. Tic, tic, tic. So relaxing, so relaxing. Tic, 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 tic. So relaxing. So relaxing. Tic, 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 tic. Non distraver. Potrebbe entrati, non distrarti, potrebbe entrati, non distrarti, potrebbe entrati. È incredibile, il mio nome è Marcel, faccio ASMR e la notte faccio un fantastico show in ASMR, sì, figlio, sì, figlio. Rilassati, è molto vero, questa vita è vero, attenzione, attenzione, ho fatto una volta, è molto vero, è molto vero, non distrarti, non distrarti, non distrarti. Vuoi stare inomentando? Kiss, chi vuole un bacio? Volete un bacio? Come si dice in inglese, vuolete un bacio? Vuoi un bacio? Vuoi un bacio? Vuoi un bacio? Vuoi un bacio? No, Giulia, a te non te lo do perché mi cali sempre i bidoni, Giulia. Ciao, Charles. Vabbè, tieni, Giulia, te lo do. Simpatico più o meno? Beh, non so, vabbè, te lo puoi dire da una peggiata, se sei bella, buon per te. Però un'altra, dovete essere anche siciliane, perché mi secca a spostarmi, anche se sto comprando un camper. Quindi dovete essere anche disposti ogni tanto a fare i viaggi in camper e cose simili. Comunque è incredibile che ho 3.000 spettatori e mi sto spammando la mia singletutina. Buonasera, Stella, tieni un bacio a te, certo che te lo do, Stella. Ti porto nella capitale. Sì, sì, va bene, ci sto. No, 15 anni, sono pochi ragazzi, almeno 20, 19, almeno 19 anni. Dovete almeno aver finito la scuola, ecco, essere almeno diplomati. Se sei un maschio, Mattia. Comunque, fatemi ritornare in pena ASMR. Stavo dicendo, ragazzi, adesso vi faccio sentire un altro trigger. Martina, non distrarti, potrebbe entrarti. Non distrarti. Adesso io sentirei un altro trigger, guardate. che passa? Tutto bene? È molto pericoloso, questo live streaming. È molto pericoloso, grazie. Grazie, 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 grazie. Do you like this sound? Follow me if you relax this sound. Hi Russia, hi. Che faccio? Li rifaccio il temporale, li rifaccio. Un bacio, Mattalena. Allora ragazzi, now I do again the thunderstorm for the new people that look in this moment my live streaming, ok? This is my invention. This is my invention, ok? It's ok. Do you know the thunderstorm in ASMR? One moment, one moment, see, it's dangerous this live. Be bold, thank you for subscribing to my channel. Yes baby, yes baby, I study at Harvard, finirai su libri di ASMR. Thank you, ciao Aurora, ciao Aurora, ciao Aurora, this is a thunderstorm, this is a thunderstorm. It's dangerous, this live, it's very dangerous, ok? It's very dangerous. It's dangerous. It's dangerous, this live. Blow a soft wind. And start the rain. Suddenly, one thunder broke the sky. There's no BS. It's dangerous. PIAVE! Follow me, seguimi, seguimi, follow, follow. PIAVE! Tic, 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 tic. Come stai, Giulio? Tic, tic. 1300 spettatori, Giulio, su TikTok. In questo momento prima eravamo a 7500, Giulio. Ola, 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 ola. Do you like this sound? Do you like this sound? I have 7500 spettatori, non ho idea di come fa' Do you like this thunderstorm sound? Tosse, attenzione, Giulio. Vai, controllati l'ossigenazione del sangue. Controlla l'ossigenazione. Don't like, Matti. Don't like. E fuck you. No, siamo a 1000, stiamo scendendo, ragazzi. È finita, l'ondata è finita. L'ondata è finita, ragazzi. Entrate in pace. Cosa vuoi per il compleanno? Un abbonamento di livello 4 su YouTube. Niente, Giulio, è finita l'ondata. Comunque abbiamo raggiunto 7500 spettatori. Spettatori. Grazie a tutti, eh. Grazie. Se vi è piaciuta la mia diretta seguitemi. Grazie mille. Oh, comunque è pazzesco. Poi Fabio mi invì la registrazione. 7500 spettatori. Non pensavo mai. Non avrei mai pensato. Non avrei mai pensato. Non avrei mai pensato. Non avrei mai pensato di farcela. Poi quando è uscito l'uccello davanti a 3.000 persone, 5.000 persone, è stato fantastico. Oh, è stata davvero una cosa... Cioè, che ne pensi Fabio di quello che è successo? Oh, cazzo, ho caduto. Grazie per il cuore con le dita. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. C'è un cinese, Fabio. Si occupa di dove io? Cazzo incredibile. Oh, comunque ho 800 spettatori. Grazie per le dita. 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 Grazie, grazie. Grazie, grazie. Il nome è Marzo. E io sono italiano, amo ASMR. E questo è ASMR live, ok? Se ti piace, se ti piace ASMR, segui mi. Se ti piace il mio face, è incredibile, è incredibile. Foip. Guarda, guarda. Guardate la chiina, guarda la mano. Oh, è magico, è magico. It's magic, it's magic, it's magic, this pool, this pool, yeah it's magic, it's magic. Follow, 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 oh yes baby, oh yes baby, roses, if you like this sound, the magic spoon for support the live streaming, okay, gift a rose, thank you, thank you, you speak French, oui oui oui, je parle français, je étudie le français à l'école, merci, 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 una rosa un po', oh Mati, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup merci beaucoup merci 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 home 4000 Fabio, stai registrato Fabio merci beaucoup merci beaucoup le français j'ai jamais écouté oh merci beaucoup je m'appelle Marcel je suis italien j'ai étudié le français dix ans fois je parle italien je parle italien mais j'ai compris le français merci merci follow me if you like this live eh che ne so si pensa legale che ne so tu parla italiano benissimo carolina si io parlare anche italiano comprendere un pochito italianito comprendere comprendere ma la 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 c'est really la 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 and funny follow me on youtube my youtube channel marzo ismr marzo ismr follow me follow me go 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 listen this listen this oh yes baby oh it's magic it's magic follow 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 un po' un po' un po' Non distrarti, potrebbe entrarti, mirami, 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 non distrarti, potrebbe entrarti, oh yes baby, oh yes baby, Fabio non so se chiudere la live su YouTube e fare soltanto TikTok, che dici tu Fabio, Fabio Musso? Hola, hola, perché non riesco a stare dietro, cioè, so dietro a TikTok, quindi forse è meglio che la chiudo. I, I post this cosa, vabbè adesso come stai che mi racconti il pello? Silvia, sono fomentato perché ho avuto 7500 spettatori, lasciami lavorare, lasciami lavorare, scrivi in inglese, aiutami a moderare la chat, Silvia, aiutami. Help to moderate the chat, che basta, tutto bene, thank you. Te quiero, te quiero, te quiero. Te chiero Te chiero Tica 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 tica